Robert Allen Zimmerman, conosciuto come Bob Dylan, è cresciuto a Hibbing, Minnesota, una città mineraria situata a ovest del lago superiore. I suoi nonni paterni, Zygman e Anna Zimmerman, emigrarono dagli Stati Uniti dalla città ucraina di Odessa, dopo i pogrom antisemiti del 1905. Secondo quanto scritto da Dylan nella sua autobiografia Chronicles, volume 1, il nome da nubile della sua nonna paterna era Kyrgyz e la sua famiglia era originaria di Istanbul, sebbene lei sia cresciuta nel quartiere Kagizman di Kars, in Turchia orientale. Inoltre Dylan menziona che suo nonno paterno proveniva da Trebisonda, città sulla costa turca del Mar Nero. I nonni materni, Benjamin e Libba Edelstein, erano ebrei lituani emigrati negli Stati Uniti nel 1902. I suoi genitori, Abram Zimmerman e Beatrice Beatty Stone, facevano parte della piccola comunità ebraica della zona. Robert Zimmerman visse a Duluth fino all'età di sette anni, quando la sua famiglia tornò a Hibbing a causa della malattia di suo padre, che aveva contratto la poliomielite. Lì, Zimmerman trascorse il resto della sua infanzia. Durante la sua giovinezza, Zimmerman trascorse molto tempo ascoltando la radio, in particolare le potenti stazioni di Shreveport, che trasmettevano musica blues, country e successivamente rock'n'roll. Durante le scuole superiori formò diverse band. Il primo, i The Shadow Blasters, ebbe una breve vita, mentre il secondo, i The Golden Chords, con cui suonava cover di canzoni popolari, durò più a lungo. Durante una recita scolastica con i Danny and the Juniors, la sua esibizione di Rock'n'roll is here to stay, fu così rumorosa che il preside decise di spegnere i microfoni. Nel suo annuario scolastico del 1959, Robert Zimmerman scrisse che la sua ambizione era conoscere Little Richard. Lo stesso anno, usando il nome Elston Gunn, si esibì in due concerti con Bobby V suonando il pianoforte, guadagnandosi alcuni applausi. Nel settembre del 1959, Zimmerman entrò all'Università del Minnesota, a Minneapolis, dove il suo interesse iniziale per il rock'n'roll si trasformò presto in una passione per la musica folk, suonata tradizionalmente con strumenti acustici. In un'intervista, Dylan ha raccontato che la sua passione per il folk nacque quando ascoltò per la prima volta odetta. Dopo aver sentito uno dei suoi dischi in un negozio nel 1958, vendette la sua chitarra elettrica e l'amplificatore per acquistare una chitarra acustica Gibson. Nelle note dell'album Biograph, Dylan spiega l'attrazione che la musica folk ha esercitato su di lui, evidenziando come fosse più seria e riflettente rispetto al rock'n'roll, con canzoni colme di disperazione, tristezza, trionfo e fede nel sovrannaturale. Subito cominciò a suonare al 10 o'clock scholar, un caffè a qualche isolato dal campus. In questo modo entrò nel circuito folk di Dinkytown, fece amicizia con gli amanti del genere e prese in prestito molti dei loro album. Durante i suoi giorni a Dinkytown, Zimmerman cominciò ad adottare il nome Bob Dylan. In Chronicles, volume 1, spiega «Volevo andare via di casa e farmi chiamare Robert Allen. Sembrava il nome di un re scozzese e mi piaceva». Leggendo la rivista Downbeat, scoprì l'esistenza di un sassofonista chiamato David Hannin e in quel periodo entrò in contatto con la poesia di Dylan Thomas. Zimmerman si trovò a dover scegliere tra Robert Allen e Robert Dylan. «Non riuscivo a decidermi, ma la lettera D aveva sempre più potere», spiegò. Optò per Bob, perché ci erano molti bobbies nella musica popolare dell'epoca. Dylan lasciò il college alla fine del suo primo anno e rimase a Minneapolis, lavorando nel circuito folk e viaggiando a Denver, Madison e Chicago. Nel gennaio del 1961 si trasferì a New York per suonare e visitare il suo idolo musicale Woody Guthrie, ricoverato al New Jersey Hospital. Guthrie fu una rivelazione per Dylan ed esercitò una profonda influenza sulle sue prime composizioni. Successivamente Dylan disse dell'opera di Guthrie, «Potevi sentire le sue canzoni e allo stesso tempo imparare a vivere». Durante il suo soggiorno in ospedale, Dylan conobbe Ramblin Jack Elliot, un vecchio amico di Guthrie che era tornato da un viaggio in Europa per visitarlo. Questo incontro segnò l'inizio di una lunga amicizia, con Elliot che influenzò gran parte del repertorio di Dylan. Elliot è citato più volte in Chronicles, volume 1. Tra aprile e settembre del 1961, Dylan si esibì in vari club nel Greenwich Village. Il 29 luglio fu ospite del programma radiofonico Saturday of Folk Music, dove suonò Acne di Eric Von Schmid in duetto con Ramblin Jack Elliot e Mean Old Southern Man con Danny Kalb, oltre a altre tre cover, Handsome Molly, Omi Wise e Pur Lazarus. Dylan attirò l'interesse del pubblico dopo una recensione positiva di Robert Shelton del New York Times su una sua esibizione al Gerd's Folk City nel settembre del 1961. Sempre nel settembre del 1961, Dylan fu invitato a suonare l'armonica nell'album della cantante Folk Carolyn Hester. John Hammond, talent scout della Columbia Records e produttore dell'album di Hester, notò il talento di Dylan e il mese successivo lo scritturò, permettendogli di registrare il suo primo album, Bob Dylan, che includeva canzoni della tradizione folk, blues e gospel, oltre a due brani originali. L'album non ebbe un grande impatto iniziale, vendendo solamente 5.000 copie nel primo anno, abbastanza solo per coprire le spese. La Columbia Records considerò Dylan come una delle stranezze di Hammond e suggerì di rescindere il contratto. Hammond difese vigorosamente Dylan e anche Johnny Cash divenne un suo potente alleato alla Columbia. Nonostante il contratto appena firmato, Dylan registrò una dozzina di canzoni sotto lo pseudonimo di Blind Boy Grant per Broadside Magazine, una rivista ed etichetta discografica di musica folk. Nell'agosto del 1962, Dylan legalmente assunse il nome ufficiale di Bob Dylan. Nello stesso mese, Dylan fece due cambiamenti cruciali per la sua carriera. Cambiò il suo nome legalmente in Robert Dylan presso la Corte Suprema di New York e assunse Albert Grossman come suo manager. Grossman rimase il manager di Dylan fino agli anni 70 ed era importante sia per la sua personalità, a volte provocatoria, che per la sua grande e protettiva fiducia nel suo principale cliente. In un documentario su Dylan intitolato No Direction Home, Dylan descrive Grossman così. Assomigliava al manager di Elvis Presley. Sapevi che stava arrivando dal profumo. Le tensioni tra Grossman e John Hammond portarono Hammond a lasciare il ruolo di produttore, che fu poi assunto dal giovane produttore jazz Tom Wilson. Con il suo secondo album, The Free Willing Bob Dylan, pubblicato nel maggio 1963, Bob Dylan iniziò a farsi un nome significativo sia come cantante che come autore. Molte delle canzoni dell'album sono considerate canzoni di protesta, influenzate dalla passione di Dylan per le canzoni di attualità di artisti come Pete Seeger e ispirate parzialmente da Woody Guthrie. Ad esempio, Oxford Town è un racconto sardonico della battaglia di James Meredith per l'integrazione dell'Università del Mississippi. Uno dei brani più celebri dell'album, Blowing in the Wind, ha melodia derivata da una canzone tradizionale degli schiavi, ma il testo affronta tematiche sociali e politiche contemporanee. Questa canzone divenne un successo internazionale grazie alla cover di Peter, Paul & Mary, aprendo la strada per numerosi altri artisti che interpretarono le canzoni di Dylan. La varietà dell'album The Free Willing Bob Dylan non si limita alle proteste, includendo anche canzoni d'amore, scherzose e talking blues surreali, riflettendo l'umorismo e la versatilità di Dylan. Un'altra traccia significativa dell'album è A Hard Rain's A Gonna Fall, con velati riferimenti all'apocalisse nucleare, che acquisì particolare risonanza dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962. Questa canzone, insieme a Blowing in the Wind, segnò un punto di svolta nella canzone moderna, unendo la tecnica del flusso di coscienza e liriche immagistiche, con le tradizionali progressioni armoniche della musica folk. Dylan suonò principalmente chitarra acustica e armonica in The Free Willing Bob Dylan, sebbene abbia esplorato anche suoni rockabilly con una band di supporto in altre registrazioni non incluse nell'album. La sua voce, non convenzionale ma penetrante, fu adatta all'interpretazione delle canzoni folk tradizionali e influenzò profondamente il movimento folk emergente nel Greenwich Village. L'influenza di Dylan si estese rapidamente, con artisti come Joan Baez, che lo sostennero e registrarono le sue canzoni, aiutandolo a raggiungere il successo nazionale e internazionale. Il lavoro di Dylan non solo trasformò il panorama musicale dell'epoca, ma continuò a ispirare generazioni di artisti con la sua musica e le sue parole incisive. Nel 1963, sia Bob Dylan che Joan Baez erano figure di spicco nel Movimento per i diritti civili degli Stati Uniti. Parteciparono insieme a Raduni e alla storica marcia su Washington, durante la quale Martin Luther King pronunciò il celebre discorso I have a dream. Dylan, in particolare, divenne noto per le sue canzoni di protesta, che affrontavano temi sociali e politici cruciali dell'epoca. Nel gennaio 1963, Dylan partecipò a uno sceneggiato televisivo della BBC intitolato Mad House on Castle Street, interpretando il ruolo di un chitarrista vagabondo. Tuttavia, più tardi quell'anno, ebbe un confronto con i media durante l'Ed Sullivan Show. Dylan aveva pianificato di eseguire Talking John Birch Paranoid Blues, ma gli autori del programma gli impedirono di farlo, poiché la canzone poteva essere vista come diffamatoria nei confronti della John Birch Society, un'associazione anticomunista. Deluso dalla censura, Dylan rifiutò di esibirsi, segnando un momento di conflitto con il mainstream mediatico. Il suo album successivo, The Times They Are Changing, pubblicato nel 1964, rappresenta un Dylan politicamente maturo e sofisticato. L'album affronta temi come l'assassinio di Madga Rivers, l'attivista per i diritti civili, e le difficoltà economiche nelle comunità agricole e minerarie. Tra le canzoni, The Lonesome Death of Hattie Carroll racconta la storia vera di un omicidio razziale, mettendo in luce le ingiustizie sociali dell'epoca. Verso la fine del 1963, Dylan cominciò a sentirsi estraneato e limitato dal movimento folk e dalla sua immagine pubblica. Durante una cerimonia di premiazione, visibilmente alterato, fece dichiarazioni controverse sulla società e suscitò reazioni negative dal pubblico. Questo episodio segnò una svolta nella sua carriera e nella sua relazione con il movimento politico. Il successivo album di Dylan, Another Side of Bob Dylan, 1964, segna una svolta stilistica. Esplora temi più personali e meno politici rispetto ai suoi lavori precedenti, incorporando elementi surrealisti e una nuova direzione lirica. Canzoni come Times of Freedom e My Back Pages riflettono un approccio più complesso alla composizione musicale e al pensiero poetico di Dylan. Durante il periodo tra il 1964 e il 1965, l'immagine pubblica di Dylan subì un radicale cambiamento, passando da quella di leader del movimento folk a quella di icona del rock. Cambiò il suo stile di abbigliamento e iniziò a adottare un atteggiamento più provocatorio e critico nei confronti dei media e dell'opinione pubblica. L'album Bringing It All Back Home, conosciuto anche in Italia come Subterranean Homesick Blues, segnò un significativo cambiamento stilistico per Bob Dylan quando uscì nel marzo 1965. Questo fu il primo album in cui Dylan utilizzò strumenti elettrici, contrapponendosi al suo precedente lavoro prevalentemente acustico. Il primo singolo estratto, Subterranean Homesick Blues, influenzato da Too Much Monkey Business di Chuck Berry, divenne uno dei primi video musicali mai realizzati. Il video, incluso nel documentario Don't Look Back di D. Eppenebaker sulla tournée inglese del 1965, riflette l'energia delle libere associazioni tipiche della poesia beat, anticipando in qualche modo lo stile dei futuri rap e hip-hop. Il lato B dell'album presentava quattro lunghe canzoni acustiche, tra cui Mr. Tambourine Man, che divenne un grande successo grazie alla reinterpretazione dei The Birds. Altre tracce come Gates of Eden, It's All Over Now Baby Blue e It's Alright Ma I'm Only Bleeding divennero standard nei concerti di Dilan per gran parte della sua carriera. Queste canzoni combinavano temi politici, sociali e personali con immagini semi-mistiche, evidenziando il tipico stile dilaniano. Il tour di Dilan in Inghilterra tra aprile e maggio del 1965 fu trionfale, ma il momento più controverso fu la sua esibizione al Newport Folk Festival il 25 luglio 1965. Dilan, accompagnato da una band che includeva membri della Paul Butterfield Blues Band, eseguì un set elettrico che provocò una reazione mista dal pubblico folk. Sebbene alcune fonti suggeriscano che Pete Seeger abbia minacciato di tagliare i cavi dell'amplificatore di Dilan, un fatto successivamente smentito da Seeger stesso, il concerto segnò una chiara rottura tra Dilan e il movimento folk tradizionale. L'incidente al Newport Folk Festival del 1965 generò una controversia significativa tra i sostenitori di Dilan e il movimento folk, rappresentando simbolicamente il passaggio di Dilan a una fase più sperimentale e elettrica della sua carriera. Questo evento simboleggiò anche la fine del dominio della musica folk politica e acustica che aveva caratterizzato la scena musicale degli anni precedenti. In sintesi, Bringing It All Back Home rappresenta un punto di svolta cruciale nella carriera di Bob Dilan, segnando il suo passaggio da icona del movimento folk a figura centrale nel mondo della musica rock emergente degli anni Sessanta. Nel giugno 1965 Bob Dilan rilasciò Like a Rolling Stone, un singolo che raggiunse il secondo posto nelle classifiche americane e il quarto in quelle inglesi. Con una durata di oltre sei minuti, questa canzone ha rivoluzionato le concezioni musicali dell'epoca, riportando la musica degli anni Sessanta alle sue radici stilistiche tradizionali mentre introduceva nuove sonorità. Like a Rolling Stone offre una cruda rappresentazione della Miss Lonely, una volta benestante ma ora caduta in disgrazia, trasmettendo la rabbia e l'odio di Dilan contro la convenzionalità e l'ipocrisia del benessere sociale. Bruce Springsteen, nel suo discorso introduttivo per Dilan alla Rock and Roll Hall of Fame, descrisse la canzone come un'apertura violenta della mente, affermando di aver ascoltato la voce più potente mai sentita. Nel 2004, la rivista Rolling Stone ha posizionato Like a Rolling Stone al primo posto nella sua lista delle migliori 500 canzoni di tutti i tempi. L'incidente motociclistico di Bob Dilan avvenne il 29 luglio 1966 vicino a Woodstock, NY. Le circostanze esatte rimangono a volte nel mistero, con varie versioni su come si sia verificato. Dilan stesso ha dichiarato di aver semplicemente perso il controllo della sua moto, ma ci sono stati speculazioni su possibili cause, come guasto meccanico, distrazione o droga. Nonostante le congetture sulla gravità delle ferite, Dilan ha affermato di essersi rotto alcune vertebre del collo. Questo incidente ha segnato un periodo di isolamento per Dilan, durato circa 18 mesi, durante il quale si è ritirato dall'attenzione pubblica. Successivamente ha ripreso il lavoro creativo, incluso il montaggio del film Eat the Document, che però è stato rifiutato dall'ABC per essere troppo incomprensibile per il pubblico. Dilan ha anche iniziato a registrare con gli Hawks presso Big Pink nel 1967, un periodo in cui ha prodotto canzoni che sono diventate celebri grazie ad altri artisti come Julie Driscoll, The Birds e Manfred Mann. Queste registrazioni, note come The Basement Tapes, sono diventate importanti nel panorama musicale, nonostante non siano state ufficialmente pubblicate fino al 1975. Dilan ha proseguito la sua carriera con diversi album significativi come John Wesley Harding nel 1967 e Nashville Skyline nel 1969, segnando un cambiamento nel suo stile musicale e nelle tematiche trattate. Bob Dilan è stato molto attivo e prolifico durante gli anni 70, con una serie di album e tour significativi. Ecco un riassunto delle principali attività di quel decennio, Doug Sam & Band 1973. Dilan ha contribuito con la sua canzone Wallflower come chitarrista e voce solista all'album di Doug Sam, Planet Waves 1974. Dopo aver firmato con la Asylum Records, Dilan ha registrato questo album con The Band, seguito da un tour. Contiene la celebre canzone Forever Young, Blood on the Tracks, 1975. Questo album è diventato uno dei più acclamati di Dilan. Inizialmente ricevette recensioni contrastanti, ma col tempo è stato riconosciuto come uno dei suoi migliori lavori. È noto per le sue profonde introspezioni e narrativa emotiva. Rolling Thunder Review, 1985-1970, 1976. Dilan ha intrapreso questo tour con una compagnia eclettica di musicisti e artisti, tra cui Joan Baez, Johnny Mitchell, Allen Ginsberg e molti altri. Questo periodo ha visto anche la pubblicazione dell'album Desire nel 1976, Hurricane Carter e Hurricane, 1975. Dilan ha scritto e registrato questa canzone in sostegno al pugile Rubin Hurricane Carter, imprigionato ingiustamente. è diventata una delle sue protest songs più celebri. Reynaldo and Clara, 1978. Dilan ha diretto questo film mescolando narrativa improvvisata con spezzoni di concerti della Rolling Thunder Review. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni contrastanti, ha avuto un impatto significativo nella rappresentazione artistica di Dilan. The Last Waltz, 1976. Dilan ha partecipato al concerto d'addio di The Band, immortalato nel film diretto da Martin Scorsese. La sua esibizione è stata uno dei momenti salienti del film. Street Legal, 1978. Questo album è stato pubblicato con una qualità del suono controversa, ma i testi sono stati lodati per la loro complessità e coerenza. Questo decennio ha visto Dilan spaziare attraverso diverse fasi musicali e espressive, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi songwriter del suo tempo. Dopo aver pubblicato il libro The Philosophy of Modern Song il 1 novembre 2022, Bob Dilan ha proseguito pubblicando il 27 gennaio 2023 The Bootleg Series volume 17 Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 in vari formati Il box set da 5 CD include un remix dell'album Time Out of Mind del 1997 realizzato per restituire le canzoni alla loro forma originale come suonate dai musicisti in studio escludendo gli effetti e le elaborazioni aggiunte successivamente dal produttore Daniel Lanois Contiene anche 25 outtake inedite registrate durante le sessioni per l'album oltre a un disco di esecuzioni dal vivo Intorno al 1964 Bob Dilan ebbe una relazione sentimentale con l'allora superstar di Andy Warhol e di Sedgwick Successivamente il 22 novembre 1965 sposò Sarah Lounce La coppia ebbe quattro figli insieme Jesse Byron nato il 6 gennaio 1966 Anna Lea Samuel Isaac Abraham e Jacob Luke nato il 9 dicembre 1969 Dilan adottò anche Maria Lounce poi Dilan figlia del primo matrimonio di Sarah nata il 21 ottobre 1961 e ora sposata con il musicista Peter Himmelman Negli anni 90 Jacob Dilan divenne noto come cantante del gruppo The Wallflowers mentre Jesse Dilan è diventato un regista cinematografico e uomo d'affari di successo Dilan e Sarah divorziarono il 29 giugno 1977 nel giugno 1986 Dilan sposò Carolyn Carol Dennis una sua corista di lunga data la loro figlia Desiree Gabrielle Dennis Dilan nacque il 31 gennaio 1986 la coppia divorziò nell'ottobre 1992 e il loro matrimonio e la figlia rimasero segreti fino alla pubblicazione della biografia di Howard Sounds Down the Highway the Life of Bob Dylan nel 2001 Bob Dylan è sempre stato affascinato dal poker e ha scritto alcune celebri canzoni ispirate a questo gioco come Lily Rosemary and the Jack of Hearts Huck's Tune e Rambling Gambling Willie nel suo romanzo autobiografico Chronicles Dilan racconta di come durante il suo tempo al Greenwich Village il passatempo preferito dopo le esibizioni fosse giocare a lunghe partite di poker nella clip promozionale per l'album Love and Theft si vede Dilan chiaramente impegnato in una partita con il mago delle carte Ricky Jay tuttavia esistono anche aspetti controversi nella vita di Dilan come citazioni riguardanti eccessi di alcol e droghe il coinvolgimento in risse frequentazioni di prostitute e polemiche con il vicinato nella sua residenza di Los Angeles e